Bella faccia, ti consiglio di saltare adesso perché tra non molto non potrai più farlo Ci sono dei nani lì Dei nani, no, sono i creatori della mappa Prova a saltare, salta Ecco, goditi questo salto perché adesso non lo potrai più fare Perché adesso saremo bloccati in una mappa in cui è impossibile saltare Non si può saltare in nessun modo, ci sto provando anch'io Ti spiego perché, bella faccia Io ti odio No, non mi odiare È molto semplice, c'è un modo per avanzare Quindi noi dobbiamo riuscire ad arrivare in cima, lassù praticamente E per farlo dobbiamo utilizzare tutto ciò che c'è nella mappa Però non possiamo saltare Quindi pensa, c'è un pulsante Ti volevo uccidere ma non posso C'è un blocco Vai lì, vai lì, guarda lì Secondo me devi andare lì No, tra l'altro non ci possiamo neanche attaccare tra di noi Peccato Guarda, porta No? Porta, porta Guarda che ci deve essere qualcosa che ci permette di avanzare e salire nel prossimo blocco Quindi spremi le meningi Usa il fiorino Commettiamo che lo trovo prima io? Eh, sì, scommettiamo Qualcosa, c'è qualcosa qua Ahà Vai, vai, vai Continuiamo a scommettere, mi raccomando Ma guarda te che nabbo Ok, adesso siamo nel prossimo livello Quindi siamo riusciti a salire E credo che se scendi Sì, infatti, se scendi al livello successivo Poi puoi saltare Cioè, vedi? Voglio vincere Se tipo avresti bloccato nel livello di prima Ma ormai l'hai superato Puoi risaltare Ora, qui invece no Carino, ci sta Ci sta, è bellissimo, vero? È bello, molto carino Guarda, sono riuscito a salire di mezzo blocco Secondo te? Così, così Sali lì, sali lì, vai No No, risali lì Ma è impossibile Vai, vai, sali qui Ma è impossibile No, devi tenerla così Come? Vai, salti su Vai Ci salti, signore E non posso saltare, sono bloccato Ma fammi, per me è che te sei veramente Vai, vediamo che cosa vuoi fare Prova No, no, non è questo Ci deve essere qualcos'altro Scusa, ma sei veramente Guarda Questa porta è bloccata Potevamo andare di qua A meno che ci sono dei pulsanti Dobbiamo controllare i pulsanti Oh Pulsanti Come pulsanti? Cos'ho aperto? Le botole Niente Dove sei? Sono qua Aspetta Questa scala non mi convince C'è C'è della neve No, no, no Eh, ma cadi Si può andare? Prova No Dai, prova Forse devi Forse devi tipo cadere Ma nello stesso momento Devi alzarti Cioè deve essere tipo Una cosa coordinata Tipo su, su, su Si, così, proprio No, non ti fa andare su Aspetta, ci sono dei barili Non me li fa aprire Io sto zaudiando Barili sono chiusi Ci deve essere qualcos'altro Che non stiamo vedendo È di là, è di là Che dobbiamo andare Dove? Tipo dalle ceste nascoste Il fiore si può prendere Il fiore si può prendere? Sì, ho preso il fiorellino Pulsanti nascosti Oh, oh, oh Qua c'è Guarda Un riparo C'è un incudine Ok Questo non si può usare Vedi se ti fa No, non c'è niente Pure Aspetta Guarda Non ci credo Ho trovato No, 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 no Non è vero Ho trovato Stavo proprio per dire Perché ci sono dei colori diversi Nella terra Perché nascondono sempre Gli shulker E ce n'era uno Guarda Dove? Dove era? Qua Si può raggiungere a distanza No, vabbè Dai, magari Allora, ho trovato Uno scaffolding Che può essere piazzato Su un altro scaffolding Ne vedi uno? Sì, forse sì Dove? È là nella neve Sanno tutti che sotto la neve Ci sono gli scaffolding È vero, può essere Lo metta, signore No, non me lo fa mettere Mi stai ritrollando? È invece questo Che può rompere Forse è qua Oh, questo può rompere La concrete nera Guarda Avevo ragione Avevo ragione Boom Grazie Ok, ora Oh, guarda cosa c'è qui Cosa? Uno scaffolding Lo possiamo prendere L'hai preso? Te lo fa piazzare dove? C'è un pezzo di carbone Qui c'è un pezzo di carbone Qua invece ci sono degli iron nuggets Pepite di ferro E i chicken ci sono Carbone Libri non ce ne sono Guarda cosa ha trovato? L'ingotto di ferro Dove? Era qua dentro Questa La te li butto, Tim Quindi dobbiamo fare del ferro? Colorante Upgrade Allora, tira giù tutto Oh, un altro di ferro Trovato? Un altro Un altro di ferro? Come facciamo a farlo cadere però? Mamma mia Ehi C'è una crafting? No, si è bloccato No, è rimasto lì No, no No, non è vero No, ci deve essere un modo No, dai Questo è un bug Ma che cavolo? Come hai fatto? Ho starnutito Bella faccia Ho starnutito Bella faccia Oh, allora era bloccato Ma se non si può saltare in questa mappa Tu com'hai fatto? Ah, non lo so Eh, sì, non lo sai No, vabbè, ho starnutito Non sei andato in creative Ascolta, era bloccato Volevi che il video finisse qua Aspetta, possiamo cucinarlo Vai, cucina No, non si fa nello smoker Qua, di qua, di qua Dove? Usorio Ok Senza usare il carbone Tanto non serve C'è già il fuoco Adesso abbiamo Ah, con la crafting Dov'è la crafting? Eccola E lì No, mi serve un'altra pepita per fare E sì, ho una pala per scavare quella neve Tu hai i piedini No, sono miei Puoi andare oltre la neve Aspetta, possiamo cuocere Cosa? Possiamo cuocere la mia corazza di ferro E avere la pepita Ma che dici? Certo, ti serve? Prova Sì, mi serve una pepita Una sola? Sì No, vabbè, sono un genio Ma veramente funziona? Guarda Non è vero Ma da quando hanno aggiunto questa cosa? Da sempre Ah, io non lo sapevo Allora, con queste nuove pepite Probabilmente possiamo fare Un altro lingotto E con quattro lingotti Cosa ci facciamo? Cosa lo facciamo con quattro lingotti? Quattro lingotti Fammi vedere, allora No, il Minecraft ne servono cinque Dei piedini di ferro? Mi fa fare il colorante magenta Non si credo, Kendall Sono passato Sì, perché hai i piedini in pelle Te l'ho detto prima Servono i piedini in ferro? Perché? No, passami i tuoi piedini Non stiamo a sprecare materiali Oh, c'è un pulsante Ciao Dai, dammi i piedini Come si dice? Dai, muoviti E se cascano lì sotto? No, non cascano lì sotto Dammi Sei basso, eh Troppa, troppa Oh, prendi bene Vai, vai La fai prenderli Sì, ce la faccio Vai Passa Dove li hai tirati? Ok, ce li ho Ok, ok Guarda Boom Mamma mia, sono un genio E a cosa serve questo pulsante? Ok, non importa Adesso Dobbiamo cercare di andare oltre Questa è ancora chiusa Puoi vedere che dobbiamo fare tipo una chiave? Dove sei? Che cavolo ci fai? Aiuto, aiuto C'è un pulsante Lo premo Schiaccialo Ti fa volare Levitare Ho capito E basta? No, è solo per andare lì Sì, perché se cascavi È finito Ah, ok, per farti uscire Guarda che mi sa che l'ho capito Guarda qua Guarda Oh Wow Oh E ora da qua come fai però? Ora da qua devi riuscire a salire Sei bravo Sei bravo allora Cosa ci devo fare con quel ferro, secondo te? I piedini con quattro? Cosa c'è quattro? Una pala, piedini, una spada Ma che pala? È la pala con quattro Una zappa Una zappa? Secondo me sono questi che dobbiamo sbloccare Non è che qua c'è qualcosa di nascosto? Eh, Kennel c'è un problema Quale? Aia! Sono tornato indietro Oh Non sto prendendo danno Perché sto blocco è mezzorotto? Il blocco è mezzorotto No, è fatto così È la terra brulla Terra brulla Terra brulla E non ha un motivo di essere così? Non ha motivo di essere terra brulla? Aspetta, ma di qua non ci siamo andati ancora Ma infatti Oh Con questo puoi salire Vai, sali Vai, fammi salire Sì! Era semplicissimo Era semplicissimo Cioè ci stavamo complicando la vita per niente Allora Oh c'è un piccone lì Però se adesso siamo Aspetta un attimo c'è un problema Adesso? Mi stai dicendo che ora possiamo andare qua? Sì Ma è? Guarda Perché se sblocchi il livello ti fa andare oltre Ah Quindi ora possiamo andare qua Però Basta Effettivamente non serve a nulla Non c'è nulla Là c'è una slime ball Che bello è torni indietro e salti Guarda Sì se torni indietro Sono gli altri livelli Puoi saltare Perché ormai li hai sbloccati Cosa c'è qua? Cosa c'è? Uno smoker Qua ci sono dei picconi Ma la faccia Metti in moto i cricetini che hai nel cervello Sto mettendo in moto i criceti Qua Qui Dove? E che c'è? C'è qualcosa Cosa hai trovato? Piglia, piglia Lassù in alto Ok Colorante bianco Un blocco di Questo che cos'è? Niente Non si può prendere È un lingotto di oro Allora io mi prendo i fiorellini Secondo me servono Ma dove cavolo bisogna andare? Per me servono Ho i coloranti Ho tutti i coloranti E quindi? Ho giallo Magenta Rosso E bianco Sì ne manca qualcuno Però va bene Però andiamo un po' Qui c'è Il coso tessile Wow Per cambiare il colore Del banner Ma che cavolo stai dicendo? Sto improvvisando Ok bella faccia Sto improvvisando Eh anch'io Ci provo Cosa? Cosa? Un lingotto d'oro Più il colorante bianco Fa un lingotto di ferro? Sì vabbè dai Con il lingotto di ferro Faccio il minecart Che può essere piazzato Sulle rotaie Peccato che non è così Su minecart Però va bene Sì normalmente non è così Però aspetta un attimo Quindi Avevamo visto delle rotaie Ah qua 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 Dov'è? Qui E che cosa ci fai lì? No no C'erano delle altre No no Erano solo Qua guarda Dove? Ah? Eh però No non mi fa so dire No No Aspetta ho capito Sei pronto? Vai Boom Sono o non sono un genio? Dillo Devi fare il salto Perché nel livello di sotto Riesci a saltare Eh Qua c'è scritto Combina i due picconi Ok Quindi Come li combino? Ma perché non riesco? Me l'hai spostato Perché sei un nabbo Bella faccia No è qua Ma me l'hai spostato? Devi cliccare Dai lì Ma non posso Ma non va Senti non importa Tanto puoi saltare adesso Abbiamo completato il livello Eccomi qua Ok Aspetta c'è scritto Combina i due picconi Mi stai dicendo che li devo combinare Nell'envil? Sì vabbè Adesso diventa poco complicato Aspetta forse qui Oh piccone in diamante Eh? Può rompere la pietra Eh pietra Pietra quel No quello non è pietra C'è della pietra? Questa Questa non è pietra Ah si è pietra No non è pietra Ok apre Oh dove cavolo siamo finiti? Che cavolo è? C'è uno shulker Ok No Siamo bloccati? No 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 Ci deve essere un mo Aspetta ma questo blocco è diverso Non ci credo Eh? No vabbè Ho trovato Acqua Un arco Con infinità Dell'acqua Che può rompere le trapdoor di ferro E una freccia Trapdoor di ferro qual è? Questa? È quella Ok aspetta lo sto rompendo Eh dai E con l'arco? Sparo Sparo questo? No? No Tu hai l'acqua hai detto No l'hai presa te l'acqua Cos'altro hai tu? Niente Tu hai preso te l'acqua Sono gli scaffolding L'acqua l'acqua Usa l'acqua e mettila lassù No secondo me dobbiamo schiacciare Ma devi piazzare l'acqua Devi piazzare l'acqua lassù E torniamo su Così? Ah ok Uh Bene No Dai sali su Amici amici Ok l'ultima volta Basta basta Non lo faccio più Io non salvo Dai Dai che dobbiamo andare avanti Non salgo Eh vabbè come vuoi Resta lì Vieni a pigliare l'acqua Ok Allora C'ho un arco con infinità Dobbiamo sparare a qualche pulsante secondo me Dov'è? Dov'è il coso? Eh Il coso con levitation Dov'era? Il coso? È là È qua Perché? Perché ho capito Parla parla Comunica Guarda Boom Eh è io? Un genio Eh ora puoi saltare Mitico Ok Adesso Cosa c'è? Eh Don't worry Non ti preoccupare di craftare male Cosa dobbiamo craftare? Crafta quel che vuoi Log e scaffolding E qua c'è C'è un altro colorante guarda Da prendere Pigliano pigliano Altro cactus E siamo bloccati qua Eh direi di sì Non c'è una crafting No Però aspetta io ho la legna E falla Faccio Ah c'è scritto Non ti preoccupare di craftare male Qua forse Legna che può essere piazzata sulle sea lantern Lanterne del mare Ok Spassati Bene Mi fa craftare dei bastoncini Una cesta E degli altri bastoncini Wow Posso fare le scale E dove le metti qua? Scale che può essere piazzata sulla legna Questa è legna? Sì Sì Ok Ne ho un'altra Ho un'altra scala Tela Può essere piazzata sulla legna Qua 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 Qual è? Questo Boom Fantastico Però faccio sei un genio Sono un genio Sono Ok vieni Camminiamo oltre Prendi quella Questa qua la prendiamo Cosa ci dà? Può essere piazzato su un pistone Ma scusa perché Oh mio dio La cesta può essere piazzata su un minecart Ti ricordi dove è il minecart? Il minecart è lassù E mi ha dato slime block Che può essere piazzato sul pistone E poi mi ha dato anche del carbone E poi ha detto anche che Allora Il pistone dov'era? Era qua? Sì Il pistone è l'unico e quello Ma non me lo fa piazzare però Forse non è quello Pistone appiccicoso Dobbiamo trasformarmi Ecco Boom Ok ho capito Vai Superato Oh mi ha fatto scendere giù Senza di me non ce la facevi Ender chest può essere piazzata sul basalto E ancora scaffolding Questa volta però scaffolding E può essere piazzato su un blocco d'oro Il blocco d'oro è questo Mamma mia stai impassando Guarda 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 cosa ho fatto Ma calma calma Non sto capendo niente Ok di qua Ok è l'ender chest sul basalto Dov'è il basalto? Ah ma il basalto è qua È questo Non mi ricordavo Ah dai ve lo faccio Ender chest con Piccone che può rompere un casino di cose Un casino di cose? Sì possiamo rompere Tappeti marroni Poi Il coso dell'end Condotto Enchanting table Ne ho visti tantissimi di questi Sì è nella casa Allora nella casa ce ne sono tanti è vero Tappeto marrone Condotto Enchanting table Guarda Quindi questo lo può rompere Qui tappeto marrone Enchanting la può rompere Tappeto marrone Tappeto marrone Tappeto marrone Dov'è il tappeto marrone? Tappeto marrone Prendiamo ste robe Oh comunque abbiamo preso il ritmo Qual è la deep slate? Quella poligonata è questa? Mi sembra quella Ok Oh c'è una shulker qua guarda Dove? Questo è una shulker Non è una shulker Sì sì però non si apre Rompila Rompicolo sopra Eh non posso Non ho nulla per romperlo Ma sono questi no? Sì guarda No E ora? Fai la scaletta Ce ne serve un altro Aspetta Guarda che stai facendo la scaletta Può rompere anche il condotto Hai visto un condotto? Di qua Ci deve essere un condotto Siamo degli stupidi Possiamo rompere la pietra No C'è un barile Condotto Vai Andiamo a metterlo Ho anche dei meloncini Che ci faccio con il meloncino? Mettiamo il condotto Chi se ne frega Boom E ora guarda E quindi? E quindi? E quindi? E ora c'ho dei meloncini E quindi? Ah non lo so Questo si deve aprire Bella faccia Io c'ho tantissimi oggetti È utile Fatto Fatto di pietre Può rompere la pietradura Ho capito Pietradura? Qual è la pietradura? Vieni C'ho io la pietradura in mano Che c'è scritto che è fatto di rotte Guarda qua Così Li metti a cucinare Con questo carbone magico E puoi essere piazzato Sulla deep slate Vai Vabbè Ok Chi se ne frega Andiamo Andiamo Dai 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 Quindi questo Quindi dove? Lì Ok Quello è deep slate Non è uno shulker Ma sembrava uno shulker Ok Siamo andati oltre Quindi? E quindi ora possiamo saltare oltre Quindi così Ah quindi qui è completato E si fa saltare oltre Da un'altra parte Esatto Essendo noi qua adesso Dove possiamo andare? Cosa ci ha sbloccato di nuovo? Eh non si può saltare qua Allora ci deve essere qualcosa Che ho nell'inventario Allora bella faccia Ho visto Che questo qua È fatto di pietra E qua ci abbiamo ancora Il carbone Eh Lo sapevo Lo sapevo Pensarsi prima genio Mi ha dato della gravel Che cavolo ci faccio con la gravel? La gravel Prendila Sì ma non ci fai niente Cosa hai scritto? Eh Ok questo non è normale Cosa? Non lo so Mi ha fatto fare Mi ha fatto fare un'ascia Con la gravel Ah so cosa puoi rompere Guarda Posso rompere la legna L'albero grande No L'altro No 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 Scendi Posso rompere soltanto Legna di giungla E legna di oak Di quercia Quercia e giungla Ma te la faceva rompere Secondo me devo rompere questo Tanto non serve a niente Forse il legno Ho paura che sparisca però Il legno sotto la C'è una C'è una botola Legno sotto la rotaia forse Eh a sto punto li rompiamo tutti Guarda qua anche C'è qualcosa Oppure C'è sta Botola Gunpowder Te l'ho detto Dobbiamo fare dell'esplosivo Secondo me Ormai fai tutto a te Io posso starti a guardare No però tu mi sei dando una grandissima mano eh Ma sono uno stupido Vabbè questo si sapeva eh Può rompere le foglie di giungla Queste sono foglie di giungla Queste qua Quelle? Sì è vero Ecco Barile Blaze powder Andiamo Blaze powder e gunpowder Che cosa ci facciamo? Cosa crafta? Fire charge Che può essere messa nella netherrack Dov'è la netherrack? La netherrack è qua di sopra E' tutto a seguire Se ne fai uno Poi puoi fare l'altro Questo ora ci servirà per saltare Guarda Eh sì No? Sembriamo stupidi Bella faccia ma Credo Ma guarda te Oh Ce l'ho fatta Come hai fatto? Eh perché sono un mago Tieni spegniti Ehi Ce l'ho fatta Ok Adesso dove dobbiamo andare? Abbiamo sbloccato un altro livello Abbiamo sbloccato un altro livello Forse è la casa là Forse è lo stesso piano Oh è vero È così Perfetto C'è la casa Uh salve 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 a tutti Oh Guarda Dobbiamo unire i picconi Ah di netherrack Aspetta Vediamo Da netherrack Non va però Bloccato Aspetta qual è l'ordine? Ah no c'è scritto Q Li devo lanciare Q Uno due E tre Oh Un'ascia magica Che può rompere il loom Che cos'è il loom? Il blocco lume Il blocco lume? Dov'è il blocco lume? Ma il cavolo è Italiano prego Blocco lume Blocco della luce Quello luminoso L'alluminite L'alluminite Dov'è l'alluminite? L'alluminite L'avevo vista L'um 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 È qua? È questo È questo L'ho trovato Ok Ok Può essere piazzato sulla legna Ok so dov'è Senti però Intanto che fai? Posso dire una cosa al creatore di questa mappa? Che è un pazzo psicopatico È un pazzo psicopatico Concordo Così Guarda siccome questo qua è il blocco del colorante Te lo dico io Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sicuramente colorare Guarda Cosa? Eh? Prendeli Dobbiamo colorare È un Settatore questo Guarda cosa dobbiamo fare Alla faccia felice No no te lo dico io Cosa dobbiamo fare Ci servono altri coloranti Altri Ah aspetta qua c'era qualcosa C'è questo? No Qua fuori C'è un fiore qua fuori Allora trova tutti i coloranti che riesci a trovare Io nel frattempo vado a cucinare il cactus Che è importante Muoviti muoviti pollo Radizi distorte No no Come faccio a cucinare il cactus? Fornace 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 Vorrei saperlo anch'io Fornace qua Ecco Per fortuna c'è quello magico che ancora cucina Dai 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 E poi? Eh evidentemente ci sono degli altri fiorellini Che abbiamo ignorato Che ci danno dell'altro colorante Ma io lo sapevo Quando ho visto tutti questi coloranti E spuntavano nell'inventario Lo sapevo che serviva qualcosa Sì sì Dicono tutti così Io lo sapevo Lo sapevo Devi cercare altri coloranti Guarda dove sono Che cavolo ci fai là? Ma questo l'hai preso già? Ne hai un altro tu? Sì Ok Oh Che l'ho fatta? Aspetta ne vedo un altro Non si può andare qua Vedo l'arancione Ok Vieni portami i colori Arrivo Fuffi Portami quelli che hai tu Vai inseriscilo Bamboo Sì genio Lo devi trasformare prima Mamma mia veramente No L'ordine è sbagliato Ok Dobbiamo capire qual è l'ordine Ordine o non ordine? Ah L'arcobaleno È l'arcobaleno Ce l'abbiamo fatta? L'arcobaleno è sempre la soluzione Ok E adesso? Adesso io che ho questi piedini Posso saltare dove voglio No vabbè Allora anch'io Io sono riuscito a finire la mappa No dammeli No Sono miei Del vero Vincitore Di questo gioco Dammi subito quel coso Dammi subito quel coso Dammi subito quel coso No 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 Sono miei bella faccia Ho vinto io il gioco Ragazzi Lasciate un super mi piace Se vi è piaciuto questo video Dal vostro Kendale bella faccia è tutto Insieme riusciamo a fare un cervello Ciao Ciao Ciao